Allora, vediamo se qui va bene così Allora, vediamo se qui Ok, sistemo un po' le cose e poi dopo vi do delle indicazioni per iniziare l'allenamento Quindi adesso sistemo un po', mi assicuro che è tutto a posto e poi iniziamo, ok? Ciao ragazzi, siete pronti per l'allenamento di oggi Aspettiamo due minuti così a quelli che si devono ancora collegare Aspettiamo che arrivano loro e poi iniziamo E mi vedete sia da Facebook o si controlla il telefono Perché il telefono ce l'ho girato questa volta Quindi non riesco a vedere su il telefono che cosa succede Quindi mi devo girare adesso per controllare se sia su Facebook che su Instagram che tutto funziona Quindi datemi che sia da Instagram che da Facebook che si vede tutto bene Così controllo e poi partiamo, ok? Vediamo di qua Ok, perfetto Ok, a posto Perfetto Ho controllato quindi mi sa che va tutto bene Devo mettere questo qua per guardare Vediamo se riesco a vedermi da qui da questo laptop Non riesco a vedere Vabbè Lo stesso Ok Allora ragazzi Benvenuti al nostro programma Al nostro allenamento HIIT Organizzato dalla palestra Sports City Quindi oggi facciamo un allenamento simile a quello della settimana scorsa Allo scopo di bruciare grassi Ok, migliorare la resistenza cardiorespiratoria E allenare tutto il corpo Tunificare tutto il corpo Ok? Abbiamo tre focus durante la lezione Durante l'allenamento Il primo focus è di mantenere la frequenza cardiorespiratoria Fra l'80 e il 90% della tua resistenza cardiorespiratoria Ok? Quindi se hai qualcosa per monitorare la tua frequenza Sarebbe il top Ok? Quello optivo Quella dell'applicazione optivo È il massimo perché Ti dà con i colori Ti dà diciamo La frequenza giusta Per mantenere la tua Il colore giusto Per mantenere la tua frequenza Fra l'80 e il 90% Poi il secondo focus È di concentrarti su un'attivazione Muscolare Attraverso tutto il corpo Come a me con il suggerimento che ti do Che ti darò durante la lezione Per attivare soprattutto la zona del core L'addome Spalle Glutei Gambe Cosce Quindi concentrati su un'attivazione muscolare Attraverso tutto il corpo Con il suggerimento Prestando attenzione al suggerimento che ti do La ultima cosa L'ultimo focus Concentrati a Restare dentro nel workout Cioè Abbiamo un lavoro di 30 secondi Con ogni esercizio Quindi prova di restare dentro nel workout Durante quelli 30 secondi Sia con un'opzione semplice Oppure con un'opzione intermedia Un'opzione più avanzata Ma prova di restare nel workout Per quelli 30 secondi Ok Quindi abbiamo come Uguale come la settimana scorsa 5 round 5 esercizi 30 secondi di lavoro 15 secondi di recupero Fra un esercizio e l'altro E alla fine di ogni circuito Di ogni giro Abbiamo un minuto di pausa Ok Uguale come la settimana scorsa Quindi concentrati nel primo round Primo round avremo come focus Imparare la tecnica Imparare gli esercizi Per Poi portare in ogni circuito Portare l'esercizio A un livello successivo Ok Adesso iniziamo con un riscaldamento Di 2-3 minuti Dopodiché passiamo al lavoro Al circuito Ok I 5 giri Con i 5 esercizi Dopo il riscaldamento Ti faccio vedere Quali sono gli esercizi Oggi li ho cambiati un pochino C'è qualcuno che è rimasto uguale Gli altri un po' li ho cambiati Sono degli esercizi che ho cambiato Riscaldamento Quindi se Se hai già Preparato il cardiofrequenzimetro Puoi già anche fare partire da adesso Ok Facciamo il riscaldamento 3 minuti di riscaldamento E poi passiamo all'allenamento Ok Penso che tutti siano pronti Ok Ok ragazzi Partiamo Con il nostro riscaldamento Dipide la rivista delle spalle Incrocia le mani Spinge verso l'alto delle mani Spinge verso le spalle Spinge le gambe Spinge gli occhi verso l'esterno Solleva il petto Torna su Iniziamo Con una corsa sul posto Solleva il petto Attiva l'attore Ricordati Se non vuoi correre Puoi anche camminare sul posto Ok Ricordati che non la tenere il petto sempre alto Ancora Cambiamo esercizio Cambiamo esercizio Bounce Lato lato Destra sinistra Destra sinistra Mantieni le ginocchia In linea con la punta del piede Metto alto Preparati per lo squat 4 3 2 Scendi in spalle Rispariamo le gambe E spingerle anche indietro verso un passo Mantieni l'attore Il petto alto Lattone in contratto 4 8 Se ti va Scendi un po' di più 4 3 2 Ragazzi Ginocchio in avanti Destro sinistro Destro Sinistro Passo 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 Destro Sinistro Squadra le anti in avanti Petto in alto Rilassa le spalle Soglia 4 Ancora Ascolta Altre due Facciamo una corsa in avanti Verso di me 1 2 3 4 Uno squat a destra Uno sinistra Corri dietro Squad a destra A sinistra Ancora Verso di me Se non ti va di correre A destra A sinistra Se non ti va di correre Ricordati che puoi camminare A destra Sinistra Ancora uno Ancora uno Verso di me Se levo il petto Destro Sinistro Indietro E-o E-o Destra Ascolta Ginocchio Destro Sinistro Avanti Sinistro Destro Sinistro Sinistro 4 3 Altri due Torna la corsa Corri avanti Con due squadre alla fine A destra Scuota A sinistra Indietro A destra A sinistra Corri avanti Vieni L'ultimo Finiamo il rispondimento Ci prepariamo Per il nostro circuito A destra Ultimo Rimani con i fili larghi Largo Dentro Dentro Fuori Dentro Fuori Dentro Fuori Solleva il petto Ginocchio verso l'esterno Vai Vai 4 3 2 Stop Ok Rispondimento Fato Passiamo al lavoro del cibo Circuito Ok Ricordate 5 giri 5 esercizi Semplice E efficace Ok Ricordate la intensità è alta Ok Heat È un elemento ad alta intensità Ogni esercizio ha diversi livelli Quindi lavora In basso la tua capacità Ok Primo round Concentrate sulla tecnica Ok La tensione ha I suggerimenti che ti do Per imparare i movimenti Ok Faccio partire Con il derby timer Aspetta Ti faccio vedere gli esercizi Ok Primo esercizio Mountain climber Incrociato Oggi lo cambiamo Incrociato Livello numero 1 Mani sotto le spalle Ginocchio a terra Poi porta un ginocchio Verso Il gomito opposto 1 2 Con le ginocchia a terra Questo è il livello 1 Ok Le mani sotto le spalle Addome in contratto Livello 2 Gambe tese Stringo l'addome Poi faccio 3 Ginocchi incrociate E mi fermo 1 2 Stop 1 2 Stop 1 2 Stop Ok Per 30 secondi Quindi 1 2 Stop 1 2 Stop Ok Secondo esercizio È Lo squat Jump laterale Squat con salto Quindi scendo Salto Livello 1 Scendo salto Scendo 1 Salto Livello 2 Con jump Salto Ok Terzo esercizio Quindi uguale come la prossima Terzo esercizio Oggi lo portiamo a un alto livello È sempre il T-Rotation Ma questa volta aggiungiamo un push up Livello 1 Mani sotto le spalle Ginocchi a terra Un push up E una rotazione Con il ginocchio a terra Ok Di nuovo Push up Ginocchi a terra Ok Livello 2 Gambe tese Push up Rotazione Ok Quarto esercizio Power lunges Ricordati Affondi con salto Ginocchi a 90 gradi Pito in alto Anche Squat up Ok L'ultimo Vertis Ma questa volta lo modifichiamo Livello 1 Guarda Scendo Mane a terra Piede destro Piede sinistro Destro Sinistro Salgo Cammino in avanti Cammino dietro Ok Quello è livello 1 Livello 2 Squat Sparo i piedi indietro Stringo l'addome Torno Salto Corro in avanti Corro dietro Ok Questi sono i 5 esercizi 5 giri 5 esercizi Ragazzi Fra un minuto si parte Faccio partire Il timer Prendete un po' d'acqua Se volete Il primo round Il tuo focus Concentrate sulla tecnica Ok Sia con livello 1 Livello 2 O livello 3 Dell'esercizio Concentrate a Ad effettuare una tecnica Efficace Ok Attenzione sugli alimenti Ok Primo giro Parte fra 30 secondi Primo esercizio Mountain climber Incrociato Ok Livello 1 Giro che terra Livello 2 Gambe d'esse Ok Ragazzi 15 secondi Si parte Primo giro 10 secondi Primo giro 5 4 3 Mountain climber Incrociato Livello 1 Giro che terra Incrocio 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 Ok Livello 2 Mani sotto le spalle Grande pese 1 2 Stop 1 2 Stop Mantieni l'addome in contratto E ferma Le anche Per attivare Tanto l'addome 10 secondi 1 2 Stop Mantieni le cosce Attive Stop Ok Rest Secondo esercizio Squat jump Laterale Ok Livello 1 Livello 1 Senza il salto Livello 2 Con salto Pronti Via Squat jump Allora Piedi Larghezza delle spalle Petto in alto E addome in contratto Ok I piedi rimangono vicini E il movimento è controllato Con le gambe E con le braccia Opzione Ricordati Senza il salto Pausa Per questo esercizio Push up In rotation Livello 1 Ginoche a terra Mani sotto le spalle Ginoche indietro Dove il contratto Via Livello 1 Ruota Scendi con il petto A livello dei gomiti Ruota E mantieni un ginocchio a terra Petto scende A livello dei gomiti Ricordati Spalle Lontane dall'orecchio Strigi forte l'addome Ok Quarto Affondi Ve lo faccio vedere di profilo Livello 1 Livello 2 Pronti? Via Livello 1 Affondo 90 gradi le gambe Squadra le gambe Davanti E solleva il petto Guarda livello 2 Bam 90 gradi Metto in alto 90 gradi le gambe Stop Ultimo Burpees Livello 1 Ti faccio vedere livello 1 Poi passo a livello 2 Pronti? Via Livello 1 Mani a terra Piede destro Sinistro Torno Salgo Cammino in avanti Cammino dietro Ok Squad Destro Sinistro Destro Sinistro Salgo Cammino in avanti Cammino dietro Regolo 2 Corsa Corsa Pausa Ok Primo giro dato Ok Quindi Immagino che hai più o meno capito Che hai capito degli esercizi Passiamo Al secondo giro Ok Abbiamo un minuto di pausa Recupera Durante il secondo giro Ci concentriamo sulla Frequenza Ok Quindi Portando La frequenza All'80 Al 90% Della tua resistenza Calderospiratoria Quindi Se non hai caldo Frequensimetro Devi andare così A sentimento Se ce l'hai Prova di mantenere Ok La frequenza In quel range Ok Arrivando al 90 Puoi andare fino al 91 92 93 Ok 10 secondi Secondo giro Controlla la frequenza Ok 5 secondi Pronti Mountain Climber Mani sotto le spalle Via 1 2 Stop 1 2 Stop 1 2 Stop Mani sotto le spalle Spalle lontane dall'orecchio Addomi Addomi super contratto 3 1 Via Mantieni i piedi Vicini Alla larghezza delle spalle Stringi Stringi l'addome Spingi verso l'alto Rilassa le spalle Contrae Leggeri la contrazione Tra le scapole Stringi l'addome 5 secondi 5 secondi 5 secondi Gambe tese Gambe tese Ruota Mani sotto le spalle Addomi in contratto Attiva l'addome Vesuta l'umelico Ricordati che il petto scende Fino al livello Dei colpi Pausa Affondi Quarto esercizio La mia frequenza è alta Ragazzi Affondi Pronti? Via Vedi un altro Controlla la frequenza Squadra le anche Senti da dove esce la spinta Esce dai piedi Dal tallone davanti E dalla punta dei piedi dietro 5 secondi 3 2 Stop Burpees Ok Controlla la frequenza Se sei troppo alta Ralenta Pronti? Via 30 secondi Corri avanti Corri dietro Di nuovo Corri Ascolta Quando spari i piedi dietro Ricordati di attivare tanto l'addome Avanti Solleva il petto Dietro Ultimo Avanti Ok pausa Secondo giro Andato Come va con gli allenamenti a casa? È duro eh? Non è uguale come in palestra Lo so Anche per me è duro Ma dobbiamo farlo Ok? Ci stiamo dietro Terzo giro Focus Attivazione muscolare Attraverso tutto il corpo Ok? Quindi Porta due muscoli A una contrazione muscolare Efficace Attraverso la tecnica Ok? Hai già capito Come si fanno gli esercizi Quali sono le diverse opzioni Quindi Concentrati ad attivare Soprattutto l'addome Durante gli esercizi Le cosce A mantenere Attenzione tra le scapole Ok? Abbiamo altre 10 secondi Per partire Primo esercizio Mountain climber Ready? Go Stop Stringi forte l'addome Stringi forte La coscia Di quella gamba Che rimane Appoggiata a terra Allontana le spalle Dall'orecchio Per mantenere Le spalle Attivate Stabile Ancora L'ultimo Stop Squat 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 Movimento corto Piedi vicini Spingi dai piedi Stringi l'addome Pronti? Via Vai Spingi dai piedi Verso l'alto Spingi le braccia Verso il soffitto Controlla il movimento Controlla il movimento Attraverso L'uso delle gambe La spinta delle gambe E la spinta delle braccia Attiva le cosce Senti l'attivazione Del glute Quando spingi Senti l'attivazione Del glute Stop T-Rotation Push up Ok Mani sotto le spalle Ginoche a terra Stringi l'addome Via Ruota Durante la rotazione Stringi forte l'addome E spingi dal braccio Che è a terra Per attivare la zona Laterale Altre dieci secondi Spingi dal braccio L'ultimo Ecco Affondi Ok Petto in alto Scuadra le anche Gambia 90 gradi Via Senti l'attivazione Della coscia Davanti Del gluteo Petto alto Spingi dai piedi Senti l'attivazione muscolare Sulle gambe Dai Cinque secondi Pausa L'ultimo Burpees Questo Porta la frequenza in alto Quindi Opzione 1 Opzione 2 Via Corri avanti Corri dietro Corri dietro Ancora Avanti Dietro Ricordati Mami sono le spalle Stringi l'addome Stringi le cosce Glute Torna Avanti Dietro Stringi forte l'addome Ok Abbiamo finito il terzo giro Passiamo il quarto Un minuto di pausa Ascolta Quarto giro Portiamo gli esercizi We take it to the next level How Portando ogni esercizio a un livello superiore Ok Quindi Durante il primo Il mountain climber Prova ad andare più veloce Ok Incrociando le gambe Ma ricordate la pausa Al terzo 1 2 Stop 1 2 Stop Ok Al secondo Prova di mantenere i piedi vicini Sempre vicini durante lo squat Ma in movimento Più lontano Ma con i piedi sempre vicini Ok 5 secondi Si riparte Mountain climber Ready Go 1 2 Stop 1 2 Stop Veloce Stop 1 2 Stop 1 2 Stop Veloce ma Mantenendo sempre la tecnica Dai 1 2 Stop 1 2 Stop 1 2 Stop 10 secondi 1 2 Stop 1 2 Stringi forte l'addome Ultimo Ok Wow No stop Secondo Squats Pieni vicini Movimento Largo Pronti Via Go Pieni vicini Movimento ampio Spingi l'abraccia Spingi l'abraccia Spingi l'abraccia Movimento ampio Ricordati il petto in alto Addome in contratto Vai 5 secondi Recupera Recupera Tear rotation Ok Divino successivo E di provare tutte le ripetizioni Le gambe tese Ok Pronti Via Ricordati Scendi col petto Alla testa dei gomiti Gambe tese Vai Ancora Stringi l'addome E spingi Da quel braccio Che rimane a terra Durante la rotazione Ragazzi Affondi Rimani basso Col movimento Quindi prova di non saltare troppo Il livello successivo E quello Via Basso Basso Prova di fare un salto Il più piccolo possibile Vai Sguardo le armi Vai 5 secondi Brucia quello Brucia tantissimo Ultimo Burpees Livello successivo Durante la corsa Porta il ginocchio più in alto Ok Sia avanti che dietro Via Ginocchio In alto Dietro Ancora Via Corsa Dietro Dai Rimane il muro Avanti Su ginocchio Dietro L'ultimo Ragazzi È andato L'ultimo Quarto giro Manca uno Recupera Un minuto di pausa Passiamo all'ultimo Ascolta Ascolta Ultimo giro Focus Rimane nel workout Per 30 secondi Sia con l'opzione Sia con il livello 1 Livello 2 O livello 3 Ma rimane nel workout Per 30 secondi Ok E il tuo obiettivo È quello In questo run Abbiamo 20 secondi Recupera Continua a mantenere la frequenza Per un impatto metabolico più efficace Ok E rimane nel workout Ultimo giro 5 secondi Ultimo giro Mountain climber Tira Uno Due Stop Rimane nel workout Con qualsiasi opzione Se non riesci Ricordati la ginocchia L'incrocia Ma rimane dentro nel workout Rimane nel workout 5 secondi Secondo Squats Con o senza il salto Piccolo o ampio Scegli tu Mani Mani dentro Pronti Via Vai Spingi Solleva il petto Stringi l'addome Porta su la frequenza Movimento corto O ampio Come vuoi 10 secondi Dai 5 secondi Bravi Ragazzi T-Rotations Mancano 3 esercizi Per finire L'ultimo giro T-Rotations Ready Go Spingi Spingi dalla mano Che rimane a terra E stringi l'addome forte Mentre scendi Spingi Spingi dalla mano Le gambe Forte 10 secondi L'ultimo Ragazzi Affondi Abbiamo quasi finito Altre due esercizi Affondi Affondi Pronti Go Squadale anche Stringi l'addome Ricordati 30 secondi Rimani Resta con me Resta con me 10 secondi 10 secondi Dai 5 secondi 5 secondi L'ultimo Burpees E' ora di dare tutto quello che abbiamo L'ultimo Give it all you've got Everything Pronti? Via Su Vai Dietro Ancora 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 Solleva il petto Stringi l'addome Vai Ragazzi L'ultimo 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 Abbiamo finito Abbiamo finito Bravi Ottimo lavoro Ragazzi Avete raggiunto Un impatto metabolico Veramente efficace Una tonificazione Di tutto il corpo Veramente Intensa Ehi Abbiamo bruciato un sacco di calorie Abbiamo tonificato tutto il corpo Ehi Vieni con Fabi che facciamo un po' di stretching Vieni Vieni che facciamo un po' di stretching No Quella è l'acqua di top Live here Stay here Con le stretching Mettiti con i ginocchi a terra Larghezza delle spalle Vieni a terra Allunga Con i cipiti Prendi un breve respiro Inclinati dalle anche Ciao Ciao Porta le mani a terra Allunga la schiena Guarda il umbilico Ehi Ciao Bravo Vieni 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 Adesso Mettiti a terra Allunga la gamba de l'astro Avanti Vieni 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 Allunga la parte posteriore della gamba destra Vieni 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 Ok Incrocia In tiri sinistro solleva il petto e ruota mantieni il petto alto la schiena lunga cambia lato gamba sinistra dritta piega la gamba destra prendendo il respiro respira e smuota fuori l'aria avvicina il petto alla coscia il naso al gomito al ginocchio scusa ehi cosa fai? direi dai plank bravo vieni qua solleva il petto incroci la gamba destra arraccia solleva il petto e ruota vuoi fare il push up anche te? vieni qua allunga le gambe un bel respiro incroci in avanti avvicina il naso alle ginocchia allunga le gambe ehi vieni qua in avanti utenti viene allusati un po' confattare vieni qua in avanti Intracci le gambe Solleva il fretto Rilassa le spalle Prendi un bel respiro Ruota alla tua destra Appoggi la mano sinistra sulla coscia Torna al centro Prendi un bel respiro Ruota dall'altra parte Rilassa le spalle Rilassa il collo Ok, torna al centro Metti le mani dietro Piscina i minuti Con le mani rivolte verso il muro di dietro Solleva il pezzo Solleva il sguardo Vieni, vieni, non è successo niente Non è successo niente Vieni, vieni Vieni Vieni, non è successo niente Non è successo niente chi c'è qua, chi c'è qua, non è successo niente, è caduta, è caduta, è la mamma, abbiamo finito ragazzi, è caduto, abbiamo finito, finito il workout, e spero sia stato un workout, il vostro, non siete state il vostro agio, ci vediamo il prossimo giovedì, nel stesso orario, buona serata a tutti, buona cena, allenatevi, rimaniamo in contatto, mi raccomando, ci vediamo vicine, state a casa, a presto, ciao ragazzi, ciao!